State letteralmente adorando entrambi i tipi di nascondino quindi continuiamo a portarveli entrambi Nel sondaggio avete votato praticamente tutti i lama e io so già perché Perché se uno dei due quando cerca sbaglia e colpisce un lama che in realtà non è Fer o Steph Si becca gli sputi in faccia Non è una bella sensazione avere degli sputi in faccia Dicevo che avremo una pressione mentale abbastanza grossa sullo sbagliare Perché non credo sia molto piacevole o bello e per il più sono abbastanza pericolosi questi lama Quindi capisco benissimo perché ha vinto nel sondaggio credo che sarà stradivertente E l'assistente segreto raga ha fatto una mappa che non avete idea ci sono alberoni, caverne, labirintini, piccole case E' una bella mappa per un nascondino C'è un sacco di zona dove nascondersi quindi è veramente veramente figa Inizi tu Come puoi partire? Inizi tu dai Inizio io Io mi metto qui dentro e tu ti nascondi vai Allora chi si nasconde quindi come sempre mi tengo questo mi carico già il mio bel fucile Vai 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 Dai mi giro così non vedo nulla Anche se questo nel mio stanzino qua Eh infatti sei super tranquilla Ok quindi tutto pronto come sempre mi devo trasformare Vediamo un pochettino cosa posso diventare Facciamo questo dai Facciamo questo quindi Ok Guardate Pronti Oh ma che bellino che sono Devo notare se hanno qualche comportamento particolarmente strano È quella la cosa particolare I villager Beh non ve l'abbiamo capito come si comportano i lama Con i lama ancora non sappiamo nulla È un po' un mistero Posso andare? Vai pure vai pure vai pure Allora qui chiudiamo Avvio al timer 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 star timer Quindi devo prendermi anche chi cerca Questo è il mio equipaggiamento La mia spada Perfetto arrivo Ok Allora sto controllando un po' come si comportano Va bene Allora ti guardano in faccia Quello sì Però un po' si fanno i fatti loro Cioè ti guardano ma poi continuano per la loro strada Non è che sono così interessati a vederti Mi sembra davvero dura Fede E comunque non è solo riconoscere il comportamento Ma è anche il fatto Ok Aspetta questo è strano Sei Steph O mi hai sputato Mi puoi sputare Ok Eri tu o non eri tu Non ero io Che è successo? Non lo so C'era un lama Ok Quando mi guardava molto in faccia Cioè continuano per la sua L'ho picchiata ma ha sputato Ti ha sputato? Sì E dicevo comunque Non è solo riconoscere i loro comportamenti Perché questa mappa è parecchio insidiosa Quindi ci sono già tanti nascondini di per sé Guarda mi viene da dire che oggi vince Chi trova l'altro Fede ti sei preso un altro sputto vero? No Devi stare attenta Guarda che si inizia a farle arrabbiare tutti Sì ma non mi guardano in faccia Come li dovrei riconoscere? Non lo so Non lo so fare Sta a te trovare il modo E ti dicevo Credo che questo oggi vincerà proprio Chi riesce A trovare l'altro Tu non hai sputato Tu non hai sputato Tu non hai sputato Ma perché sei venuta dritta? Voglio delle spiegazioni Perché eri troppo fermo E c'era un altro lama di fronte a te Io mi sono messa di fronte E l'altro mi ha guardato Tu no E che poi come dato l'ha spadato Ho preso pure l'altro Che mi ha sputato Di conseguenza Quindi Mi fai schifo No tu fai schifo Che sei scarso Vieni a stopparti il tuo bellissimo timer Arrivo E torna normale Non rimanere un lama Giusto Stavo dimenticando Ok Ora sono uno step Stop Sono arrabbiatissimo Resetta Sono arrabbiatissimo Giuro Mi dispiace La tua versione lama Dura 10 secondi Vai vai a nasconderti E muoviti anche Chi si nasconde Devo prendere questo Devo prendere questo Devo prendere questo Devo prendere questo Devo ricaricare le armi Perché adesso ucciderò step Vediamo in che bell'arma Mi trasformo È morto Aspetta sto ricaricando Per 10 minuti Sì 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 Ma vai a nasconderti Adistruc Aspetta Adistruc Devo trasformarmi Nienche Nienche un minuto La facciamo durare Nienche un minuto Nienche un minuto Preparati Posso andare? Sì Ok Nienche un minuto Allora Allora Grazie Ok Mi fai ridere Cosa stai facendo? Mi faccio guardare De lama Ok È giusto Guarda che sputacchiano parecchio Fai attenzione È avviato il timer Steph No Mi sono dimenticato No perché devo sapere Quando devo iniziare A usare le armi Steph Capisci? Mi sono dimenticato Mi dispiace Via Ok Allora Sto cercando di studiare Il comportamento Del lama Ok Ma sta piovendo Dovevi togliere anche la pioggia No la tolgo la pioggia È una tristezza Copre la puzza di lama Steph è intento Adesso si fa sputare Mi hanno sputato Ovviamente Perché sapevo che avresti colpito qualcuno Ah mio caro Steph Mio caro Steph Come sei messo? Hai delle idee? No Niente? No Francamente no Ok Questi sono tutti tranquilli e sereni No non è ferro Sto imparando i loro comportamenti Però devo essere sincero Sì 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 Ogni tanto mi arriva qualche sputacchio Eh vabbè ma quello è normale Oh poi sono proprio fieri mentre mi sputtano eh Sono proprio fieri Ti guardano con cattiveria Sono potentissimi Ok Io so che tu sei vicina Io sto ridacchiando molto Perché è successo una cosa Che a fine round ti racconterò Appunto Lo so che sei vicina Lo percepisco Sì però non te lo posso dire ora ovviamente Per forza di cose Però a fine round Quando sarai morto Io te la racconterò E rideremo tutti insieme Perché però la sto ridendo solo io Povero Steph Mi sto facendo sputtare la tuttillama del posto Sono cattivi eh Sono cattivi Com'è prendersi gli sputti Steph? È terribile Eh lo so Allora C'è ancora tanto tempo comunque Oh è difficilissimo raga La mappa Non è così grande Ma c'è ancora tanto tempo Prima che io ti possa sparare No È proprio difficile Sono proprio strani come animali eh Sì E a volte hai notato Che non ti guardano in faccia A volte non ti guardano in faccia Ti ignorano Cioè ti guardano per un secondo E poi continuano nella loro direzione Quindi è un po' strano Strano quanto i villaggi Poi intendo stanno immobili Cioè tu secondo me hai avuto una fortuna associata a trovarmi prima eh Secondo me hai avuto una fortuna associata a trovarmi Ripeto non mi avevi guardato in faccia Io stavo picchiando sticoli che non mi guardavano in faccia Quindi è stato un po' Io ho preso almeno dieci sputti eh Sapilo No io ho un po' di meno Perché tu sei chiaramente più in difficoltà Mi stai nervosendo tantissimo Questo è strano Questo è strano forte Sputa Hai imbrogliato Sì No ma sai cosa è successo Steph Tu non puoi capire Hai presente che all'inizio stavi cercando Ok Senti un attimo E sei entrato qui dentro in questa cavernina Ok E tu hai guardato un lama Ok Il primo lama che hai guardato Che ero io Io ti ho seguito tutto il tempo con lo sguardo Tu mi hai guardato tipo due o tre volte E continuavi a dire Eh però sto capendo il loro comportamento Eh però penso di aver capito come si fa Quando io ero lì dentro che continuavo a guardarti in faccia E tu non te neri minimamente accorto Perché erano i primi Giustamente ora Mi stava venendo da ridere E ti ho dovuto sparare Perché Steph Non potevo Non potevo Ma non è vero Potevi Cioè Dovevi scappare Comunque ti ho beccato malamente Ma non è vero Guarda hai fatto una figuraccia Avrei voluto Che si vedesse la mia visuale Da quanto eri ridicolo Con tutti i discuti Toglimi sta pioggia Che mi dà fastidio Ho capito Ho capito Quello c'ero io che ti fissavo in faccia E tu tranquillissimo Vabbè Allora Hai fatto una figuraccia allo stesso Io inizio a nascondermi Non ti ascolto più Hai stoppato il timer Sì Allora Devo tornare normale Ah finalmente non piove Ok Io questa volta diventerò Ok Come si cambiava tra uno, due, tre Shift Grazie Non mi ricordavo più Facciamo questo Ah che ridere Che ridere Che ridere È stato molto divertente però E poi non sapevo come sputarti Quindi ho deciso di sputare un proiettile Capisci? Capisco Eh sì Puoi andare Posso andare? Hai fatto? Sì Ok Non sono molto convinto francamente Non sono per niente per niente convinto Però Speriamo di farla Ah il timer scusa scusa devo tornare indietro Vai È difficile ricordarlo Lo so lo so te l'ho detto Dobbiamo mettere un cartello Qua proprio prima di scendere Con scritto timer Così uno se lo ricorda Start timer Vai Ok Tu mi guardi in faccia Io ho imparato il segreto Maledetto Per nascondersi Questa volta vinco Questa volta vinco Oh Steph non mi guarda più in faccia nessuno Te l'ho detto Guarda che io prima Mi sono davvero dovuto far sputare No questi sputano e come Sputano e come Da un botto di gente Ma proprio un botto Un botto Un botto di gente Perché Non ti guardano più in faccia Mai E quindi è davvero davvero un casino È davvero un casino Poi sputano dopo due ore Quindi non sai Ma oddio Ma qui c'è il party dei lama Ehi Tu sei qui in mezzo Ci sono un sacco di lama Tutti ammassati In questi alberi Ah capisco E chissà se c'è È che qua se colpisco Cioè mi sputano in venti Capito Perché è molto complicato Rischi di morire di sputti eh Sarebbe Davvero micidiale Ma si sono moltiplicati Stef No Cioè sembrano di più Ti giuro Sicuramente saranno usciti Un po' dalle caverne Dalle casette Capito Sono andati più in giro Però non possono essersi Moltiplicati Mi dispiace Anche perché al massimo Ci sarebbero più piccolini Però quelli grandi sai Magari sono cresciuti Un po' di quelli piccoli Quello può essere Ci sta Può essere sì Ok 70 secondi No è difficilissimo Stavolta Ma te lo ho detto Perché si sono Ti dico quelle cose Che non vuoi mai sentirti dire Vai Una volta mi sei passata di fronte Ovviamente Cioè almeno una volta Secondo me No qui sono troppo ammassati E tu sei rimasto sorpreso Quando te l'ho detto Quindi non sei nell'ammasso di lama Va bene Va bene Scegli quello che vuoi Metà del tempo Dopo due ore Spuntate veloci Raga oggi forse riusciamo Se vi ricordate La scorsa volta Ce l'avevamo dovuti affrontare Con i fucili Perché non avevamo riusciti Ad avere un vincitore Oggi mi sento di dire Che potremmo avercelo Il vincitore È come se potremmo avercelo Fra poco manca solo un minuto Fere Non lo so Io sto diventando Un lama perfetto Sto diventando Perché se vede la massa Col cavolo Non li posso colpire tutti Sputti Tu sputti Sì sputti Che puoi fare Tu hai sputato Cioè hai fatto sputare gente Che è iniziata a sputarsi a vicenda Te ne sei resa conto Che c'era una rissa tra lama? No No? No Non ti sei resa conto? No perché io vado veloce Ok Sì sì Hai fatto partire una rissa tra lama Incredibile Che ha proprio Provocato un casino Ah la rissa tra lama Secondo me È scoppiata in questa zona qui Ok Hanno sputato entrambi Però hanno sputato anche questo Che a sua volta sputa Ma che cavolo succede Fere? Porca miseria Steph Tutto bene? Sto provando a farli sputare a vicenda Guarda lì Stanno litigando malissimo Steph Fere non puoi far rizzare Tu ti lama di tutta la mappa Eh? Cioè non funziona così Il capire Perché così scudo chi non sta sputando Ah beh appunto Bella tattica comunque Voi sputate? Hai solo 30 secondi Non mi sembra la tattica più veloce Non ce la faccio Sì sono troppi 20 secondi Uscendo da lì Sei questo Mi dispiace Sei questo Vado a sentimento Li provo tutti 15 Se ce la faccio L'agra è fatta Secondo me lei non riuscirà a vincere da là Ma anche perché non le dirò il segreto Con cui Fere non mi ha trovato Guarda mi sei passata di fronte almeno 10 volte È ovvio Quello è abbastanza scontato Però sei andato in qualche ammasso di lama Oh E l'ho ripassato di fronte È finito il tempo Ciao Sei questo? Sì Maledetto Però non mi hai sparato Non accetto la morte da un lama Che si è messo in mezzo ad altri lama per confondermi Non ero in mezzo a lama E guarda che Proprio ho fatto il lama Stavo in F5 E facevo il lama Fere Mi dispiace Mi dispiace Ti ho umiliata 1 a 0 per Steph E Fere adesso deve riuscire Non c'è così il video Ciao No devi pareggiare No non pareggio Aia Vai a nasconderti Allora devo prendermi il mio armamento Ma scalzona Opla Io mi ritengo direttamente entrambi E sui c'ho tra i due È molto più comodo Se non mi servono Fattigli a fare i tuoi Ok va bene E poi ogni volta ricarichi il fucile È vero? No Eh no Cosa stai facendo adesso? Mettendo il lama che voglio Ok Allora fammi vedere il tosto è questo Aspetta che non devo vedere che cavolo diventi Io vado qua Tre minuti con l'ansia di sapere che se non ce la fai hai perso Senza sapere il segreto per cui Steph è riuscito a stare nascosto tre minuti In mezzo agli altri lama Senza farsi notare È preoccupato È preoccupato Per niente mi sto nascondendo Steph Dimmi quando posso andare Vai 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 Ok Allora Ti rubo la tecnica dell'F5 Vediamo se funziona O se è più difficile Ok Ok Va bene Va bene Io comunque ho notato una cosa per scoprirti Quindi teoricamente dovrei essere in grado solo vedendoti Di scoprire chi tu sei E allora stai usando un cheat No 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 Ho studiato il lama Fere Sono diventato uno studiologo di lama Ma stai chiesto che non è vero Li conosco meglio di me stesso Cosa sono a proposito? Ok sono uno Steph Sì sono uno Steph Ok meno male Perché altrimenti poteva essere un problema Il tema è l'avviato Sono già passati i 30 secondi E per ora di Fere Nemmeno l'ombra E io lo so Perché li ho studiati Quindi so benissimo Quando c'è una Fere o meno Mi hai guardato un po' troppe volte Sputtami Mi hai sputtato anche tu Perché il bambino l'ha sputtato Comunque l'ho notato anche io una cosa Si muovono molto lenti Lenti? Non è notato che il lama camminano lenti lenti Se tu cammini normale sei più veloce Esatto Però se tieni premuto il tasto per camminare più lento Sei lento come loro Esattamente quello che ho fatto Ho vinto così prima Sì sì l'ho capito anch'io Stai imparando anche tu Perché li ho osservati Ho detto c'è qualche particolare che mi sta sfuggendo ovviamente Quindi Adesso sarà più difficile per me Sì Vedi se ti muovi piano piano sembri proprio uno di loro Speravo non l'avessi scoperto Beh perché sono molto lenti in effetti Proprio tanto Si muovono pacifici tranquilli Però se li tocchi ti sputano Hai rischiato sappilo Sì 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 Ho avuto il feeling che fossi tu Però non ero io Quindi allora il tuo feeling è sbagliato Steph Metà del tempo è passato Dai non ci credo Non voglio un altro pareggio Non voglio un altro pareggio Nel caso ci si risfida con le armi eh Sì 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 Ovviamente mi sembra un buono spareggio Anche a me Potrebbe essere Una cosa che ho soltanto notato E che in realtà poi però non si vede Fosse così Stai parlando Sarei fregato Non so Steph Se stai dicendo le cose giuste O magari le cose sbagliate Steph leva la suoneria Eh fare le sono impegnate La suoneria del telefono Voglio vincere Grazie per lo sputo Disturbando gli altri concorrenti Con le suonerie del telefono Ecco come vuoi vincere Sei troppo fermo Spoo Perché so che ti è arrivato lo sputo Perché so che non ero io Mi ha fatto sputare quattro in contemporanea Sì poi litigano Povero Steph 140 secondi Steph No 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 L'altro dettaglio che avevo notato Purtroppo non si vede a livello visivo Qual è? Che praticamente Quando tu ti muovi Non hai il collo perfettamente dritto Ma io sto tenendo il collo perfettamente dritto Che scherzi In F5 riesco a raddrizzare la visuale E riesco a stare col collo Anche io lo facevo Ma speravo non avessi capito anche quello Eh certo Perché in F5 ti rendi conto che sei gobbo Se sei gobbo è normale che non puoi essere un vero lama No? Quanto siamo? 170 10 secondi Steph Poi prendo il fucile e ti sparo Ho perso Ho perso Sì Dov'è Steph? Dov'è Steph? Adesso non devo più fingere di essere un finto lama Ero sotto un albero comunque Non ci sei manco passato qui Ciao Dov'è? Io continuo a non vederla Io sto girando in tondo Cercandoti per spararti in testa Ma non ti trovo Mi sto nascondendo cara E questa L'ho trovata Fa schifo sto fuggire Uuuuh Steph e perde contro un lama Oh mio Dio Allora Allora c'è da dire che i lama Sono più impersonabili rispetto ai villager Perché i villager ti guardano molto Tipo invece l'ama un po' ti guarda Un po' non gliene frega È vero Sui da fucili? Sì un attimo Sto a posto timer Che non ne posso più di vedere la scritta in continuazione Torno normale Sono tristissimo Fere Io non entro e mi guardo i miei messaggi Ok Ok Ci sei? Sì aspetta Sto tornando normale Vabbè io inizio ad andare in giro Però devo far ricaricare questo fucile Quindi Anche io lo faccio ricaricare Uno Due Cioè è davvero lento E tre Ok ricaricami tutti i colpi Ok via L'hai già ricaricato? Certo Ti ho vista Lo so che mi hai visto Non potresti non avermi visto Ma perché c'è di nuovo un timer? E non si è stoppato Io vedo solo quello in chat Ma Hai sparato? Cioè Io in Twitter dove stavi andando Ok Ho sparato un colpo Ok E non ho neanche controllato se fossi morto Perché ho detto È impossibile prenderlo Mi hai fatto un edge in pieno Fere Fortnite step Fortnite Ho vinto Questa volta me lo giudico io Steph Mi dispiace Vabbè 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 È stato bello È stato bello Ah Vabbè Fere si vinta la sfida a lama È stata molto difficile Molto Per sonificare il lama È stato davvero 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 complicato Non mi aspettavo Così difficile Come sempre Sondaggio per decidere la prossima creatura La prossima cosa da fare Fatecelo sapere Decidete appunto voi E ci fermiamo Così